Benvenuti ragazzi, oggi parliamo di Gabriele D'Annunzio, lo vediamo in questa foto. Gabriele D'Annunzio che in realtà non si chiamava D'Annunzio di cognome ma si chiamava Gabriele Rapagnetta. Allora poi lui scelse come nome d'arte questo nome appunto questo cognome D'Annunzio. Allora per quanto riguarda la vita Gabriele D'Annunzio è un poeta del decadentismo, è interpreta del decadentismo soprattutto diciamo la parte, il fenomeno dell'estetismo. Il periodo in cui vive lo pone quasi come contemporaneo di Pascoli, anche se diciamo l'interpretazione che Pascoli ci dà del decadentismo è tutt'altra cosa no? Perché va più verso il simbolismo, mentre D'Annunzio l'interpretazione del decadentismo da parte di D'Annunzio si esplica sostanzialmente nell'estetismo. Allora nella sua villa del Vittoriale sul lago di Garda nel 1938 quindi bene o male il periodo è quello di Pascoli no? Fine 800 inizi, primi anni del 1900. Allora diciamo qualcosa della vita anche perché D'Annunzio è un poeta divo, anzi il primo diciamo il primo fenomeno di poeta fate ma soprattutto di poeta divo perché il suo narcisismo, il suo egocentrismo sprenato lo mette sempre al centro dell'attenzione soprattutto all'attenzione delle cronache e delle cronache mondane quindi diciamo diremmo adesso del gossip no? Allora quindi abbiamo detto nasce a Pescara nel 1863, già a 16 anni pubblica la sua prima raccolta di versi intitolata Primo Vere, consegue la maturità classica nel 1881, D'Annunzio si era trasferito con la famiglia a Prato e studiò al Cicognini di Prato, quindi lì conseguì al liceo classico Cicognini di Prato conseguì la maturità classica, poi si trasferisce a Roma per continuare gli studi e qui inizia a frequentare i rapporti, i salotti mondani della capitale. Ecco diventa un esteta, diventa un dendi, diventa diciamo un personaggio dei salotti mondani della capitale. In seguito D'Annunzio si sposa con una duchessa ma diciamo anche durante il matrimonio, infatti è un matrimonio che finisce presto, D'Annunzio ha altre relazioni amorose perché D'Annunzio è un uomo di mondo, è un grande amatore, l'erotismo fa parte anche del suo personaggio e quindi ha avuto nella sua vita tante donne anche durante il matrimonio. Poi nel 1889 pubblica il suo primo romanzo, il romanzo dell'estetismo, Il piacere. Un altro romanzo importante è quello del 94, Le vergini delle rocce che si può considerare il romanzo del superomismo invece. Poi ecco un'altra data importante è l'anno dopo, il 1895, quando D'Annunzio incontra e si lega all'attrice Eleonora Duse che sarà il grande amore della sua vita tra alti e bassi, diciamo così, anche lei sicuramente verrà tradita dal divo Gabriele, però diciamo così, ecco sarà il grande amore della sua vita. Infatti con lei D'Annunzio si stabilisce a Firenze. Andiamo avanti. Allora altri momenti della sua vita, per esempio nel 1900 D'Annunzio pubblica un altro romanzo importante, Il fuoco. E poi tra il 1903 e il 1904 pubblica i primi tre libri delle Laudi. Allora le Laudi sanno la sua opera poetica per eccellenza, il suo capolavoro. I primi tre libri sono quelli più importanti, poi vedremo ce ne sono altri e soprattutto il più importante e più riuscito è proprio il terzo libro, Alcione, in cui si esprime il panismo di D'Annunzio. D'Annunzio c'è il divismo, il narcisismo, l'ecocentrismo, lo porta ad essere al centro dell'attenzione anche per quanto riguarda la politica. Quindi tra il 1897 e il 1900 D'Annunzio è in Parlamento, dapprima viene eletto deputato della destra, per poi passare nel 1900 all'estrema sinistra. L'importante è essere al centro dell'attenzione. Il vivere inimitabile di D'Annunzio, cioè questo vivere sempre sulla cresta dell'onda e soprattutto vestirsi sontuosamente, vivere una vita diciamo molto dispendiosa, naturalmente diciamo che lo pone, gli crea dei debiti e quindi D'Annunzio c'è un periodo tra il 1905 e il 1910 in cui è diciamo inseguito dai creditori e allora nel 1910 proprio per non essere diciamo non avere pignorate le sue cose, per non essere vittima dei creditori, D'Annunzio fugge in Francia. Tra il 1910 e il 1915 anche dalla Francia D'Annunzio soprattutto quando si profila nel 1914, quando inizia la prima guerra mondiale e si profila il problema dell'intervento o meno dell'Italia in guerra, D'Annunzio diventa un fervente interventista. Tanto che quando poi l'Italia entrerà in guerra nel 1915 pur avendo già 50 anni suonati, si arruola volontario nell'esercito però combatterà come aviatore, va bene non come soldato ma come aviatore anche perché lui amava molto diciamo l'aviazione. Durante queste operazioni militari rimane ferito ad un occhio e passa un periodo con una benda in tutti e due gli occhi, un periodo di malattia successivo a questo ferimento e durante questo periodo di malattia scriverà un romanzo molto particolare, Il Notturno. Poi nel 1918 compie delle imprese, delle imprese strabilianti che più che essere, cioè più che avere valore militare hanno valore dimostrativo per diciamo dare a se stesso diremmo adesso visibilità. Per esempio allora compie la beffa di Buccari, la beffa di Buccari in che cosa consiste? Consiste nel fatto che D'Annunzio con tre motoscafi riesce a silurare la flotta austriaca a Buccari e poi compirà anche un volo su Vienna, come sapete noi eravamo in guerra contro l'Austria e quindi ecco lui riesce a iludere i controlli del diciamo dell'aviazione dell'antiaerea austriaca, riesce a volare su Vienna e a diciamo disperdere e lanciare dei manifesti in cui invita gli austriaci ad arrendersi. Finita la prima guerra mondiale e tra il 1919 e il 1920 D'Annunzio è il protagonista dell'impresa di Fiume perché? Perché D'Annunzio si fa portavoce dello scontento di quelli che parlavano di vittoria mutilata e quindi e quindi Fiume è tra le città promesse all'Italia che non sono state date all'Italia e negli accordi di Londra per cui D'Annunzio vuole prendersi Fiume e con un esercito di volontari e con un manipolo diciamo così di volontari di cui lui è il comandante prenderà Fiume nel 1919 e rimarrà al comando di questa Repubblica di Fiume per un anno e mezzo fino al 1920 quando poi il governo italiano manderà un esercito per diciamo cacciare D'Annunzio e i suoi volontari. Nel 1921 D'Annunzio dopo tutte queste imprese strabilianti si ritira a vita privata nella sua villa chiamata il Vittoriale degli Italiani sul lago di Garda e qui rimarrà in uno splendido isolamento anche perché il duce non vuole che D'Annunzio faccia il protagonista anche perché anche perché i due gareggiano in narcisismo e in egocentrismo e quindi visto che adesso il duce è Mussolini, Mussolini non vuole tre piedi D'Annunzio e quindi D'Annunzio rimarrà per tutto il tempo ritirato nella sua villa del Vittoriale dove morirà nel 1938. Allora abbiamo parlato della vita per vedere anche il carattere di D'Annunzio. Allora se noi vogliamo, questo è sempre D'Annunzio in divisa militare, se noi vogliamo ecco riassumere il pensiero di D'Annunzio possiamo riassumerlo in tre principi fondamentali. L'estetismo, va bene, per cui come fa a dire ad Andrea Sperelli il protagonista del suo romanzo Il Piacere bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte. Poi il superomismo per il quale si fa ispirare dal filosofo tedesco Nietzsche e il romanzo diciamo manifesto, cioè come Il Piacere è il romanzo manifesto dell'estetismo, il romanzo manifesto del superomismo sarebbe le vergini delle rocce. E poi l'ultimo principio il panismo. Il panismo che come abbiamo detto si esplica soprattutto nell'alcione. Bene, andiamo avanti e vediamo nel dettaglio ora questi aspetti della diciamo della poetica D'Annunziana, dell'ideologia D'Annunziana. Ecco l'estetismo che ripeto, che ripeto viene diciamo esplicitato, viene illustrato nel romanzo Il Piacere. Qui possiamo vedere l'alter ego di D'Annunzio, questo Andrea Sperelli. Allora sappiamo che l'estetismo è un aspetto del decadentismo, sappiamo che rappresenta il culto della bellezza, che è la teorizzazione dell'arte per l'arte, cioè dell'arte pura e della poesia pura, della poesia per la poesia, secondo cui l'arte non ha un'utilità, cioè l'arte non ha un'utilità morale ma solo un valore estetico. Quindi il principio su cui si basa la vita di questi poeti del decadentismo non è la morale ma è il bello. E poi abbiamo in questi esponenti del decadentismo estetico, abbiamo l'identificazione di arte e vita. Per esempio questa la troviamo anche in un altro esponente dell'estetismo inglese in Oscar Wilde. Andrea Sperelli, l'alter ego di D'Annunzio nel Piacere, scriverà, dirà, ecco D'Annunzio quindi scriverà e dirà per bocca di Andrea Sperelli, bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte. La superiorità vera è tutta qui perché in D'Annunzio, ma non solo in D'Annunzio, l'estetismo diventa l'affermazione della superiorità dell'intellettuale e quindi la risposta, la reazione alla crisi del ruolo dell'intellettuale perché ormai l'intellettuale alla fine dell'Ottocento, inizi Novecento non è più una guida come lo era nel Settecento e nell'Ottocento, come lo era durante l'illuminismo e il romanticismo. Il suo ruolo di guida ormai è venuto meno e quindi ecco che l'intellettuale afferma comunque la sua superiorità nei confronti delle masse, appunto, nei confronti della cultura di massa borghese. La massa è la borghesia a cui appunto l'intellettuale del decadentismo risponde con la sua raffinatezza estetica. alla volgarità borghese, cioè a quella che D'Annunzio definisce volgarità borghese, il poeta risponde con il suo vivere inimitabile, la sua raffinatezza estetica. Appunto, il vivere inimitabile di D'Annunzio, il poeta che diventa un divo perché abbiamo il primo poeta che è un divo perché abbiamo detto che D'Annunzio con le sue avventure, avventure erotiche, avventure politiche, imprese militari, va bene, è sempre al centro dell'attenzione, è sempre sui rotocalchi del tempo, va bene, è un divo, è un VIP diremmo adesso. Io ho sempre pensato che se D'Annunzio fosse vissuto nella nostra epoca sarebbe stato sempre in televisione. Quindi è un divo ed è un arbitro del gusto, soprattutto del gusto estetico. Parliamo in questo periodo di D'Annunzianesimo, D'Annunzio a differenza di Pascoli che vive invece nascosto in campagna, D'Annunzio è un poeta famosissimo, è conosciuto da tutti, anche dalle masse. Infatti c'è una contraddizione in questo suo vivere inimitabile. Abbiamo detto che il vivere inimitabile risponde all'esigenza dell'intellettuale di sentirsi superiore alla massa, però nello stesso tempo questo divismo, questo narcisismo e questo ecocentrismo sprenato di D'Annunzio risponde alle esigenze del mercato, perché fa in modo che D'Annunzio diventa un uomo sempre in copertina, diventa un VIP, diventa un uomo di copertina, diventa un uomo da gossip, va bene, un uomo da rotocalco. E quindi i rotocalchi, chi li legge, li legge la massa borghese che D'Annunzio tanto disprezzava. Va bene, quindi c'è una contraddizione in questo essere divo da parte di D'Annunzio, in questo egocentrismo sprenato di D'Annunzio. Vediamo il superomismo adesso. Ecco, abbiamo detto che il superomismo di D'Annunzio si ispira alle teorie del filosofo tedesco Nietzsche. Qui vediamo D'Annunzio nel suo aereo, che lui amava tanto, D'Annunzio come aviatore. Allora, però, ecco, anche il superomismo diventa una violenta, diventa con D'Annunzio una violenta polemica contro la solidità contemporanea, perché il poeta è l'esteta e il superuomo che quindi con la sua vita inimitabile e con le sue imprese straordinarie si erge al di sopra delle masse. Quindi l'artista è superiore e diventa anche un poeta vate, ecco, che deve guidare le masse. Ecco, e D'Annunzio in questo modo vuole riprendersi il ruolo di guida che aveva una volta l'intellettuale, soprattutto di guida politica. Abbiamo detto che D'Annunzio è famosissimo in Italia, è il poeta per eccellenza in questo periodo, fino alla sua morte è il poeta per eccellenza, anzi, verrà, secondo me, anche sopravvalutato rispetto ad un Pascoli che invece, diciamo, non ha tutta questa fama. Un Pascoli oppure ad altri poeti di questo periodo, un Montale, va bene, che tra l'altro non ama D'Annunzio come poeta laureato. Comunque, sicuramente in politica D'Annunzio è un vate, cioè una guida, e apre la strada al fascismo. Come? Con l'esaltazione del colonialismo, D'Annunzio è, diciamo, convinto, super convinto dell'impresa coloniale, delle imprese coloniali dell'Italia e quindi della politica imperialista dell'Italia. È un fautore convinto del militarismo aggressivo. Infatti, abbiamo detto, non solo approva le conquiste coloniali dell'Italia, ma nella polemica tra interventisti e non interventisti, D'Annunzio è un convinto interventista. Quindi, appunto, abbiamo in D'Annunzio l'interventismo e il nazionalismo durante e dopo la Prima Guerra Mondiale, perché dopo la Prima Guerra Mondiale il suo nazionalismo si esplica con l'impresa di fiume. La sua ideologia politica è un'ideologia antidemocratica e antiparlamentare, anche se poi D'Annunzio, abbiamo visto, si fa eleggere come parlamentare, prima di destra e poi di sinistra. Ma perché? Perché D'Annunzio vede la democrazia e quindi il Parlamento, che è, come sapete, il santuario della democrazia, come un dominio della massa, della massa e quindi della volgarità della massa, per cui disprezza la democrazia e il Parlamento. Infatti D'Annunzio vorrebbe un superuomo al comando e da Prima è lui il superuomo, ecco perché il luce ha tanta paura di lui. E' lui il superuomo durante l'impresa di fiume, e' lui che parlerà, per esempio, per quanto riguarda il Mediterraneo, di Mare Nostrum, che deve essere conquistato dall'Italia, un'idea che poi verrà ripresa dal fascismo. Il celebre grido Eia Eia Alala è un grido sloganato da D'Annunzio durante l'impresa di fiume, perché era, secondo lui, il grido degli spartani che combattevano alle Termopili. Va bene, e sarà poi, come sapete, il grido e il saluto fascista. E' D'Annunzio durante l'impresa di fiume che farà il duce, va bene, farà il duce con la sua forbita eloquenza. Ecco perché quando poi il duce salirà, il duce Mussolini, il vero duce salirà al comando, dopo la marcia su Roma, Mussolini non lo vorrà tra i piedi, perché ha un po' di invidia, un po' anche di paura per il carisma e la grande eloquenza di D'Annunzio. Ed ecco perché D'Annunzio, durante il fascismo, sarà costretto a mettersi da parte. Va bene? Allora ragazze, per il momento abbiamo finito. Continueremo la prossima volta.